Buongiorno carissimi, eccoci, siamo qui all'interno del mio canale, siamo a quelli del marketing e oggi abbiamo invitato un ospitone, ovviamente, perché non è che io invito persone così, io invito gli ospitoni e oggi siamo niente poco di meno che rullo di tamburi, splittiamo lo schermo, carissimo ospite, dici, dici, chi sei? Sono David Karelse, rullo di tamburi, si potrebbe fare anche qualche accordo di chitarra. Ma il rullo di chitarra esiste, no? Trillo, trillo, trillo. Carissimo, benvenuto nel mio canale, a quelli del marketing, sono veramente contentissimo, contentissimo. Ma sono contento io, io già ti conoscevo prima, secondo me abbiamo fatto qualcosa, abbiamo fatto qualche collaborazione non attraverso, cioè attraverso qualcun altro, ma poi secondo non mi viene capire questa cosa. Questa cosa la so io, questa cosa la so, ma adesso ne parliamo, perché abbiamo, è un'amicizia comune, ma è una cuginanza comune anche. No, no, ma non solo. No, non quello. A livello di marketing, perché io prima comunque facevo solo web marketing e quindi c'è stato un periodo, secondo me, non so se tu conosci Giulio Marsala. Certo che sì, assolutamente. Non puoi non conoscerlo se sei all'interno del marketing. Siccome io lavoravo per lui. Allora, intanto dici chi sei, dici cosa fai e dopodiché io ti interrompo e ti dico che voglio sapere tutto da te. Seguiamo la procedura, vai. Scusa se sono andato. Però, allora, io sono David Karelse, non mi definisco come in molti un chitarrista professionista, ma sono più che altro un imprenditore, divulgatore e didatta, perché secondo me il chitarrista professionista è quello che guadagna suonando, ma io non guadagno suonando, nel senso che non mi trovi che suono in un disco di qualcuno, ma io in realtà insegno. Sono specializzato nell'insegnare, nel senso che credo molto nel fatto che chi suona deve e suonare, chi insegna deve insegnare, anche se purtroppo in Italia è un po' difficile. Tu mi senti? Io non ti sento più. Io ti sento. Ok, ti sento, ti sento. Ah, ok. Io lo perdono. Allora, visto che ti ho interrotto, facciamo così, ti interrompo subito così di nuovo e dico, ma a me interessa sapere tutto di te, da dove sei partito, come ti è venuto in mente questa cosa di entrare sul web. Quindi partiamo da quello, andiamo là, dietro, nel passato. Allora, per il web bisogna andare proprio nel passatissimo, nel senso che io già quando ero in terza media, e quindi si parla del 99, credo, io avevo già fatto il mio primo sito, così, a caso. E quindi già, diciamo, c'era una passione per questo internet, anche perché ero uno, insomma, era una fortuna una volta avevo internet e fortunatamente io avevo mio papà che lavorava col computer e quindi ho sempre avuto computer in caso, ho avuto il Commodore, eccetera. Che nostalgia il Commodore! Sono cresciuto con cose tecnologiche in casa, che poi, vabbè, adesso fanno ridere, però. E quindi già questa cosa, cioè per dire, io nel diploma di quinta superiore, scome io, vabbè, avevo provato a fare ragioneria, ma sono stato bocciato. E, sì, no, perché, allora, la cosa è divertente e c'entra anche con la chitarra, nel senso che io ho cominciato a suonare nei locali a 12 anni, cioè io facevo già concerti con il mio gruppo, eccetera. Ti spacciavi per diciottenne, però, ovviamente. Sì, un pizzetto. Immaginato Bart Simpson, con la carta di entità falsa. No, vabbè, che in realtà eravamo proprio un gruppo, cioè io avevo un gruppo di tutti i miei coltani, quindi eravamo, cioè, eravamo un po' visti come i, come si dice, talenti giovani, insomma, quelle cose là. Com'è che sia? Vabbè, c'è un modo per dire. Vabbè, però, in realtà, dopo quando sono rimasto uguale a suonare, c'è nessuno adesso mi crede. Però, a parte quello, cioè, i miei genitori mi hanno detto, finita le medie, mi hanno detto, vabbè, ma, cioè, ti mandiamo al conservatorio e fai il chitarrista di professione, no? E io ho detto, no, io devo trovarmi un lavoro serio, cos'è? Cos'è il chitarrista? Vado a fare ragioneria, lavoro in banca, ho bisogno di guadagnare, perché io non conoscevo il fatto che si potesse veramente guadagnare facendo un chitarrista. Dopo qualche anno ho capito che ero stato un deficiente, però all'inizio non avevo idea che si potesse guadagnare anche senza fare, diciamo, l'artista, ma facendo proprio il chitarrista. E quindi, tipo, io ho deciso di fare sta cosa pensando al mio futuro, che avevo fatto malissimo, perché ero bravo, sì, in matematica, ma non capivo niente di economia aziendale. E quindi sono stato bocciato in terza e da lì ho deciso di cambiare scuola e fare qualcosa di più artistico e sono andato a fare grafica pubblicitaria, che all'epoca era qualcosa di artistico. Adesso non lo è più, nel senso che un grafico adesso è praticamente un impiegato normalissimo, che fa cose e anche abbastanza ritmo veloce, altro che creatività. Il tuo intento era sempre l'indipendenza comunque? No, in realtà no. No? Io praticamente, adesso ci arriviamo, praticamente, vabbè, io avendo sempre avuto questo pallino di internet, ho cominciato a fare cose mie, ho fatto un sito, poi ovviamente facendo grafica, studiando grafica, mi hanno insegnato anche a fare bene i siti e quindi ho cominciato a fare il sito. Quando ancora, cioè, saper fare siti era una skill. Prima era il webmaster, poi webdesigner era proprio, è evoluto. E quindi ho cominciato a fare questi siti in flash, queste cose qua, ho fatto un sito di annunci per musicisti, poi ho fatto una community per musicisti, poi ho fatto un bel po' di cose, ho fatto anche un ebook che doveva essere per la Bruna Editore, che me l'avevano accettato, che so che tu conosci, mi sa. Certo. Però in realtà poi ho deciso di venderlo da solo, non ho venduto niente, poca roba, però mi sono fatto un po' le ossa così da di mio, sai, avevo 18 anni, 19, così. Dopodiché ho cominciato a lavorare come grafico, creativissimo, ero in un'azienda che faceva serrature e quindi passavo tutte le giornate a scontornare serrature, no? Fantastico. Che bello. Dopodiché mi sono reso conto, in realtà la voglia di mettermi in proprio mi è venuta lì perché ho detto, qua, cioè mi sono reso conto che con il lavoro del grafico, mi sono guardato i vari contratti nazionali, ho detto, cioè qua io a 60 anni se tutto va bene prendo 1500, cioè capirai, cioè nel senso dopo 30 anni che lavoro faccio lo scatto arrivo a 1500 e non mi sembrava una bellissima, cioè perché il mio obiettivo era arrivare a 1800, insomma secondo me 1800 era un, cioè vivi bene insomma in Italia e quindi ho detto mi devo inventare qualcosa e ho cercato di inventarmi qualsiasi cosa, dopodiché appunto sempre studiando web marketing studiavo da Giulio e Nicola Fiabane e soprattutto e c'era un momento in cui siccome Giulio è italiano... Com'è che studiavi da Giulio? Ma compravo corsi, lo seguivo, queste cose qua, in realtà più, seguivo più Italo, Pentimalli, su più che poi PuntoIt, ma vabbè lui poi si occupava del marketing. Poi era più crescita personale, no? Sì, quello sì, poi appunto leggevo i book della Brun Editore, vabbè delle cose che adesso non farei mai più perché, cioè effettivamente era roba, vabbè insomma per partire... Anche altri tempi, no? Sì, sì, infatti. Tra l'altro i tempi in cui un ebook 29 euro... Fantastico. E cosa stavo dicendo? Ah sì, che appunto a un certo punto più che poi stava cercando web marketer, da formare anche, quindi io ho detto vabbè io parto, cioè vabbè non sono così esperto però le mie cose le ho fatte, un po' le mani in pasta le ho messe, pensavo di sapere qualcosa, sono andato a fare un colloquio con loro, con Giulio e Italo, mi ricordo due ore e mezza di colloquio, che c'era la mia ragazza dell'epoca che mi aspettava in macchina, poi è diventata vecchia. Due ore e mezza non ci posso pensare. E fatalità, cioè siamo arrivati attraverso varie selezioni online a questo colloquio, in 50 e siamo, alla fine ne hanno, hanno assunto me e un altro. Wow. E tra l'altro in realtà il colloquio era costantemente, tipo io facevo vedere le cose, parlavamo e loro mi sfottevano praticamente, cioè era questo il colloquio perché tipo mi facevano... Partiamo bene. Sì, perché loro avevano deciso, hanno detto ci sono due tipi di colloquio, uno dove sei buonissimo con l'interlocutore e quindi lui sentendosi a suo agio ti dice cose che non direbbe e l'altra versione è ti tartasso, ti dico che sei uno schifo e comunque vengono fuori delle parti del tuo carattere, no? Cioè sono due stili, diciamo, opposti, estremi di fare colloqui e loro avevano scelto quello pessimo e però io ho reagito benissimo in realtà perché per me era talmente tanto una bella opportunità, cioè per me era l'opportunità della vita e quindi tipo io ero là, no è vero avete ragione faccio schifo, tipo tutte queste cose qua e infatti loro hanno visto il fatto che cercavano molto di più il carattere che non la formazione, infatti c'era gente molto più brava. Anche la passione credo perché comunque dalle tue risposte si vince questo. Sì, hanno, sì esatto, c'era gente molto più brava di me ma hanno deciso di scegliere anche me per il fatto che insomma. Siete entrate anche in empatia. Sì esatto e con loro ho lavorato due anni e dopo un anno che lavoravo con loro, primo smart working, che non sapevo si chiamasse smart working all'epoca e adesso sembra così figo, cioè io ho sempre detto lavoro da casa e tutti che sfigato. Perché è vero, hai ragione, è vero. Adesso è da figli, capito? Cioè è bellissimo. E appunto questo era tipo dieci anni fa, undici anni fa e praticamente cosa sto dicendo? Che tu hai fatto il colloquio. Tu hai pure questa cosa che ogni tanto ti perdi oppure? Sì sì, perché parlo troppo. E dopo un anno gli ho detto vabbè però sono qua che stiamo facendo diventare famosi tutti, cioè e sono io, però tutti quanti diventano famosi, bravi, belli e ricchi e io sono qua. Avevo bisogno, forse il mio ego non so, avevo bisogno di fare qualcosa per me, da me. Certo, perché poi tu hai lavorato in un posto dove comunque si parlava di business, si parlava di crescita di business, di crescita personale, eccetera. Quindi stare a contatto con questa realtà, comunque forse da un lato è bellissimo, ma dall'altro c'è una parte che è un po' frustrante, no? Perché dici, cacchio, cioè io vedo tutti gli altri che seguono un percorso mentre io sono qua invece a far seguire gli altri. Ma non solo, cioè siccome noi lavoravamo con gli autori, cioè io prendevo un autore e gli facevo fare il lancio e tutto, cioè il fatto è che lui era, cioè poi diventava tipo, tra virgolette, famoso e cresceva, eccetera. Io che invece ero quello che faceva al lavoro, vero, cioè quello che faceva i lanci, le email, scriveva a nome loro e tutto e quanto, e invece non ero nessuno, che andava benissimo, nel senso che, cioè ero contentissimo, però sentivo questa voglia di voler comunicare, cioè qualcosa. Ho detto la mia passione è la chitarra, gli ho chiesto ma vi dispiace se faccio un blog dove parlo di chitarra e loro mi hanno detto, aspetta, potremmo fare una, perché hanno visto come suonavo, sapevano che comunque insegnavo di persona, ad amici, così, e mi hanno detto, aspetta, facciamo così, facciamo un business, insieme, facciamo 50 e 50 degli utili, e così noi ti mettiamo a disposizione le nostre risorse, che per me erano oro, perché all'epoca ovviamente per me è pagare un autoresponder, l'assistenza clienti, tutte queste cose qua, era ovviamente una spesa, cioè... Cioè è un accordo che hai visto come benefit, praticamente. Sì, 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 no, ma tutt'ora in realtà, perché ovviamente senza di loro non sarebbe successo mai niente, quindi in realtà devo tutto a loro, che mi hanno costretto a fare queste cose, se non mi costringevo non avrei mai fatto una cosa del genere, anche perché appunto il problema era che io non mi sentivo in grado di insegnare online, e quindi, cioè loro mi hanno un po' fatto capire che potevo farlo, e io ho detto, va bene, proviamo un attimo con un corso gratuito, vediamo come va, ed effettivamente dopo aver fatto il corso gratuito ho capito che, cioè proprio ogni giorno ricevevo richieste di persone che mi dicevano fai il corso completo, eccetera, vabbè, cioè addirittura gente che mi diceva, ho studiato col maestro, non ho capito niente, sono arrivato qui online. Ma tu nel momento in cui hai realizzato il corso gratuito, cioè l'hai fatto perché non ti sentivi a tuo agio a metterlo a pagamento? No, beh, diciamo che era un passaggio obbligato, nel senso che comunque prima avrei dovuto farlo, solo che ho detto... In termini di lancio, dici? Sì. Per far iscrivere le persone, di avere un database, diciamo. Quindi, perché era... cioè il corso gratuito vuol dire una prima parte, quindi manca tantissimo. Poi la chitarra è un mondo vastissimo, si può fare qualunque cosa. E quindi, cioè, appunto, gente che andava dal maestro non capiva niente, arrivava online e capiva che per me era inconcepibile, cioè vuol dire che veramente c'era gente che insegnava che non doveva fare, cioè non doveva insegnare. Da lì ho cominciato a capire che, appunto, c'era la richiesta, abbiamo fatto l'anno, cioè ho lavorato tantissimo per fare in modo che fosse perfetto il primo corso, che ovviamente non lo era, perché se ci penso adesso è come era prima il corso. Infatti la cosa che mi piace è che, appunto, negli anni, cioè in dieci anni mi sono specializzato talmente tanto nell'insegnamento che, cioè, effettivamente adesso il corso è qualcosa di pazzesco, cioè, ma già funzionava comunque all'epoca perché la gente che... Io ho ancora le testimonianze dei primi corsi ed effettivamente c'è tanta roba. Come risultati proprio. E quindi da lì poi è partito tutto, dopodiché mi sono staccato da loro, ho pagato la loro quota, mi hanno chiesto un tot di migliaia di euro. Però tu già hai visto che comunque la cosa stava iniziando a ingranare, a funzionare, cioè ti sei sentito... In realtà no, cioè... Perfetto! Abbandono tutto, lascio il lavoro, via! Allora, aspetta, perché prima ho abbandonato loro, nel senso che ho cominciato a fare il consulente di webmarketing da solo, però continuavo a collaborare con loro per Chitarra Facile. Quindi avevamo questo business insieme, però io avevo cominciato a fare il consulente da solo. dopodiché mi sono accorto che loro mi frenavano, cioè io volevo fare un sacco di cose sul business di Chitarra Facile, però ogni volta dovevo chiedere a loro, posso fare questa cosa? E questa cosa se la faccio così va bene, eccetera. Mi sentivo tanto frenato. Non eri più padrone a casa tua? Sì, non lo sono mai stato, in realtà prima di mollarli, giustamente, ripeto, perché loro ne sapevano mille volte più di me, mi dicevano cosa fare, però a un certo punto sentivo questa creatività probabilmente che voleva venire fuori e quando tu vuoi fare una cosa, c'è questa cosa, voglio fare un video, però non puoi farlo perché... Un creativo è pazzesco questo, perché è un vulcano che esplode o prima o poi. E infatti alla fine, un po' anche grazie al mio collaboratore di sempre, che poi è anche praticamente il mio miglior amico, eccetera, che mi ha detto ma perché non provi a levarti dalle scatole e fare da solo? Io dicevo ma no, ma come faccio così? Poi alla fine ho fatto due conti, ho detto vabbè, proviamo ed effettivamente appunto quello che è cambiato da quando sono da solo è proprio la velocità di esecuzione e da quando c'è stata questa velocità di esecuzione il fatto che io mi sono focalizzato al 100% su quello è esploso tutto, insomma, se prima era una roba da dopo lavoro, adesso è il mio lavoro principale. Cioè quindi tu hai creato questa cosa con loro, inizialmente, dopodiché ti sei staccato e ti sei ritrovato a un certo punto da solo, quindi senza customer care, senza niente, senza no, sei tu, insieme al tuo business che è a livello quasi primordiale rispetto a quello che hai fatto adesso perché comunque non gli mettevi più niente. Cioè immagina le tue sensazioni in quel momento non erano né positivissime né negativissime, ma dentro di te, cioè, era un miscuglio di tutto. Sì, c'era il giusto stress per lavorare a palla, diciamo, e nel migliore dei modi. Cioè quando sai che devi per forza fatturare, perché ovviamente io per pagare quella quota ho fatto un finanziamento, ogni mese dovevo pagare un tot e quindi ho detto io ogni mese dovevo fare almeno il doppio, il triplo di quello, che in realtà era il fatturato normale. Quindi in realtà ho dovuto triplicare il fatturato e fortunatamente sono riuscito, ma ho lavorato, devo dire che adesso a ripensarci ho lavorato abbastanza bene, di fino. Vabbè, avevo anche un po' di soldi che avevo messo da parte pronti da investire con il mio lavoro da web marketer, comunque, cioè da consulente di comunicazione online. Comunque avevo una base, cioè non è che partivo senza soldi né niente, insomma. Quindi ho investito bene i miei soldi nelle giuste consulenze. Credo molto, per esempio, il fatto che io, per esempio, facevo consulenze, per esempio, di branding online per dei clienti, ma il fatto che io fossi dentro al mio business ho detto ho bisogno di qualcuno di esterno che mi debba consigliare come fare il brand. Per esempio ho fatto, per il brand di Chitarra Facile, che poi Chitarra Facile è il nuovo brand, prima era suonarechitarra.com, per Chitarra Facile ho fatto due consulenze, per esempio con Marco De Veglia. Sì. E lui mi ha dato quelle poche, ma giustissime dritte che effettivamente secondo me hanno fatto la differenza. Cioè, posso chiederti come hai strutturato questa cosa? Tu, è un corso, è una membership, è un... È tutto. Nel senso che, di base... Cioè, se tu oggi dovresti consigliare il tuo modello... Ok, ragazzi, fate i passi. Cioè, allora, di base, cioè, è nato come ti scrivi per un mini corso, dove imparavi le prime cose, e dopo c'è il corso completo. Questa era la base, cioè, da qui è partito tutto. Dopodiché... Quindi, moto Jeff Walker. Sì, esatto. Solo che, diciamo che ha... Cioè, sarebbe insostenibile adesso avere solo un prodotto, un mini corso gratuito. E quindi, cioè, dopo, diciamo... E quindi, quella parte c'è ancora. Quindi, la gente si iscrive, quindi si iscrive all'autorespondere... Ok, e prima accesso i lead. Esatto, c'è anche una targetizzazione, cioè, segmentazione. Adesso non so più le parole dei consulenti. Cioè, segmentazione tra meno di 30 anni e più di 30 anni, perché ho due corsi separati. Ah, ok. E quelli sotto i 30 anni possono acquistare, per esempio... Cioè, tutti possono acquistare tutto, però viene consigliato maggiormente il corso che prendi tutto e hai queste lezioni e questo corso che potenzialmente puoi fare in un mese per imparare ad accompagnare le canzoni con la chitarra. E gli adulti, invece, hanno una membership. Cioè, viene consigliata una membership dove, in realtà, tu ti iscrivi, paghi ogni mese e praticamente fai tutti i corsi con un'idea logica che do io. Quindi, ogni settimana ricevono solo le lezioni che voglio io e quindi è più ordinato per loro. Io ho detto, gli adulti, primo, hanno meno tempo, quindi con calma. Secondo, hanno bisogno... Cioè, siccome hanno mille pensieri, io ti dico, fai questa cosa questa settimana e quindi loro fanno quella, sanno che fanno quella fino alla settimana prossima che non gli dico di fare altre cose. E terzo, ci sono delle lezioni in più per migliorare tendini, agilità dei tendini, muscoli, che ovviamente, dopo una certa età, io posso dire che... Cioè, nel senso, dopo i 30, io adesso... Quanti anni ho? Io ho 33. Non so cosa consultare per aiutarti. A 33 anni, già tipo quando ne avevo 27, avevo cominciato a sentire che non ero... cioè, non avevo più i tendini di una volta. Cioè, devo fare più riscaldamento prima di suonare, un live, tutte queste cose qua. Quindi mi sono reso conto che non potevo far fare le stesse cose a un adulto e a un ragazzino, insomma. Cioè, è pazzesco. Queste sono cose che non pensi mai. No. Quando non sei dentro, la tua passione, quando non lo provi... Solo perché io sono l'unico che la fa sta cosa. Cioè, non c'è nessuno che divide corso per adulti e corsi per ragazzi. C'è chi lo fa per bambini e tutto il resto. Cioè, bambini tipo sotto gli otto anni e sopra gli otto anni è tutto uguale. Secondo me è una gran cavolata, insomma. Quindi lo split del modello di business fra compro tutto e c'ho tutto e divoro tutto e lo prendo parzialmente, praticamente. Cioè, lo prendo... È come se fosse un po' a rate, no? Sì. Sicuramente tipo chi è nella membership non deve neanche pensare qual è il prossimo corso finito questo? Cioè, cosa devo fare dopo di questo? No, perché te lo dico io cosa fare. Quindi... Sì, ma se tu quindi hai un rapporto continuo con loro? Cioè, tu li vai seguendo? E allora li seguo a livello di... Cioè, se loro hanno dei dubbi io gli rispondo. Però ci sono delle lezioni già lì. Certo. Cioè, è tutto automatizzato. Tutto quanto. Perché poi diventa un casino, no? Cioè, io penso che se... Se hai 100 iscritti in un mese puoi asseguirli tu sei da solo non diventa più... No, no, ma sarebbe impensabile. Impensabile. Infatti, sì. Perché mi fa un po' ridere cioè, poveretti cioè, insomma io gli devo tutto ai miei clienti però cioè, quelli che pensano che sia io a mandargli le lezioni ogni settimana cioè, che... Perché poi magari se non gli arriva lo stesso giorno della settimana allora cioè, fa un po' ridere nel senso che cosa pensi che cioè ho tipo mille clienti e ognuno manda un'email cioè, impensabile però ci sono anche dei livelli avanzati dove uno è il livello chat dove gli do anche lo Skype e quindi possiamo chattare e l'altro è il livello VIP dove pagano 100 euro al mese e hai anche una lezione un'ora su Skype in diretta con me, insomma quindi quello è figo perché cioè, metti insieme il best of both worlds cioè la lezione di persona quindi io ti dico esattamente eh no, correggi la postura no, fai questo fai quell'altro eccetera questi esercizi fai lì magari più avanti però hai anche la figata delle lezioni online che ci sono tanti però tipo gestione del tempo te la fai da solo se io vado in tour cioè non succederà ma tipo succede spesso quando uno va a lezione da un maestro bravo cioè che è un musicista molto bravo che ovviamente questo musicista magari parte per un tour per un anno cioè tu cosa fai in quell'anno o tre mesi o un mese oppure ha delle date nei giorni in cui devi fare lezione cioè là salti addirittura cioè anche solo con una lezione salti una settimana cioè è in pensio cioè è una cosa chiaro io ti voglio chiedere una cosa la chitarra ci sono tantissime persone che iniziano a suonarla da soli quindi si mettono là imparano autodidatta e fanno arrivano a un certo a un certo livello no? e poi ci sono tantissime persone che insegnano a suonare la chitarra ok? premesso questo perché io lo paragono pure su altri modelli su altre persone che hanno altre passioni eccetera quindi premesso questo tu potevi essere scoraggiato no? all'inizio e dire cacchio qui chi vuole impara da solo cacchio ci sono sette milioni di persone che fanno questo eppure non solo ti ci sei messo ma hai spaccato anche ma in realtà chi impara da solo impara o dai libri o dai corsi online cioè è impossibile imparare da soli cioè chitarra in mano cioè se tu non chiedi a qualcuno è praticamente impossibile cioè ci saranno pochi al mondo che fanno così invece i veri autodidatti che poi anche io sono autodidatta in realtà dopo mi sono messo a studiare però in realtà io tutte le cose che ho fatto suonando cioè ero sempre stato autodidatta ma io studiavo dei libri quello che una volta erano i libri adesso sono i corsi online nessuno si mette a studiare veramente da un libro cioè non vedi neanche la persona che suona cioè è difficile molto più difficile invece adesso è super più facile certo cioè l'apprendimento è molto più veloce la curva è molto più veloce così infatti c'è molta più c'è gente molto più brava adesso rispetto a una volta certo e fra i piccoli e i grandi qual è la differenza? i grandi ci mettono un po' di più però cioè allora chi inizia da piccolo ci mette di meno e può arrivare anche a risultati molto elevati cioè si può arrivare potenzialmente dove vuoi un adulto che inizia può cioè deve mettere più impegno più costanza e in più difficilmente arriverà a livelli esagerati cioè se tu non hai mai toccato una chitarra e inizi dopo i 30 anni sai che non puoi diventare come Steve Vai adesso non so dico uno che potrebbe conoscere anche un non chitarrista Faltana Slash insomma quelli più famosi certo certo ma tu oltre a questo modello di business che hai individuato e lo hai seguito ne hai altri modelli di business ti spiego perché ti chiedo questo perché ci sono anche altri canali che possono essere portati in monetizzazione come per esempio può essere un canale YouTube come può essere un blog o altro oppure tu fai convergere tutte cose tutti questi li prendi come traffico che ti arriva e li fai convergere al tuo corso è esattamente così infatti io se non avessi il pallino che secondo me YouTube dà più visibilità a chi ha pubblicità sì se non avessi questo pallino qua che ho sempre sto dubbio che non mi toglierò mai perché loro non possono dire la verità io non posso scoprire qual è cioè nel senso se tu fai dei video se sponsorizzi dei video prendi no e se io ospito la pubblicità di Google su YouTube ah ok se io monetizzo YouTube secondo me ti dà più visibilità e cioè un po' queste cose mi sembra di averle notate cioè sul mio canale che quando tolgo poca visibilità quando la rimetto eccetera ah ok ok hai fatto il test beh sì poi ovviamente sono test che non puoi dire scientificamente è così tipo Giorgio Taverniti ha fatto però guarda caso però guarda caso per il test che ho fatto io Giorgio Taverniti mi sembra che abbia fatto questo test e ha detto il contrario però io non mi fido sinceramente a togliere la pubblicità però se fosse legge che YouTube dà visibilità uguale a tutti io la pubblicità sul canale la toglierei perché secondo me quello che perdo in traffico è troppo rispetto a quello che guadagno di cui sta su YouTube che è niente cioè proprio niente io ti chiedo però non ho numeri bassi cioè io ho 120.000 iscritti eppure non guadagno quasi niente da YouTube certo però magari la monetizzazione potrebbe essere anche di un altro tipo cioè le aziende che ti contattano ok noi abbiamo per esempio un'amicizia comune che per me è un cugino per te immagino sia un amico che Riccardo Rizzo che ha un canale abbastanza seguito io l'ho saputo da poco che ha questo canale che è Febbre da chitarra se non mi sbaglio e io vedo che lui fa anche questi video dove comunque ha la chitarra particolare che la suona che viene da un'azienda eccetera quindi magari anche questo potrebbe essere un modello differente da Sì tra l'altro lo dico cioè te l'ho già detto prima però lo dico anche pubblicamente lui è una bomba è bravissima a comunicare a fare video parte che poi tra l'altro è migliorato tantissimo nel corso del tempo adesso veramente è un livello bellissimo infatti uno dei migliori secondo me a livello di chitarra di comunicazione sto parlando sì 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 infatti per esempio io quando avevo visto che lui aveva tipo non so mille iscritti avevo visto un suo video ho detto no questo qua lo voglio lo voglio nel mio team infatti lui è stato per un bel po' nel perché poi tra l'altro la mia è più che altro una scuola online perché ho anche altri maestri che fanno corsi per chitarra facile infatti io penso di avere meno corsi rispetto a quelli che sono degli altri maestri su chitarra facile comunque quindi sono tornato a fare quello che facevo per più che puoi prega e lui per esempio appena l'ho visto ho detto no lo voglio perché veramente mi ha colpito molto è molto bravo a suonare anche si diverte molto ma non credo almeno da quello che gli ho sentito dire quando qualcun altro l'aveva intervistato mi sembra che lui non ci guadagni tanto cioè si paga le spese non ne ho idea non sono entrato da quella cosa là il problema del mondo della musica è che le aziende non hanno tutti questi soldi da investire cioè in altri mercati questa cosa può funzionare fare collaborazioni con le aziende queste cose qua nel nostro mercato non c'è un budget che posso giustificare per me forse per altri sì però per me che ho un SRL giustificare il fatto che ti faccio un video apposta per te cioè come azienda non ne vale assolutamente la pena cioè se io chiedo quello che dovrei chiedere mi sputtano in faccia sì 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 cioè poi c'è anche un'altra questione che secondo me forse è anche più importante che è il fatto che io per esempio nel 2020 ho fatto la scelta di proprio non fare nessun contratto di endorsement perché a me mi regalavano chitarre quello mi andava benissimo perché certo perché c'è anche questo aspetto del contratto che magari ti può vincolare no? esatto poi il problema cos'è? che intanto sei costretto a parlare di una certa cosa anche se non vuoi parlarne bene e tutto quanto e quindi io per sentirmi più libero io nel 2020 ho deciso l'ho anche annunciato più volte pubblicamente che non facevo più collaborazioni con aziende primo per dare un'idea editoriale al canale quindi tipo se volete gli spottoni ci sono sugli altri canali e sono bellissimi nel senso che io li guardo sempre le recensioni dei vari prodotti e sono bravissimi sono molto più bravi di me a farli gli altri tipo Riccardo e se invece volete vedere cioè le cose che vedete da me sono cose che io compro senza nessuno sconto e ti dico cioè molte cose tipo adesso qua di fianco c'è una cosa che costerebbe 1300 euro mi avevano offerto il 20% di sconto e io gli ho detto di no perché dal momento in cui io accetto un tuo sconto sono anche un po' cioè portato a dire certe cose sul prodotto è ovvio e poi sarebbe anche brutto e scortese parlare male di un prodotto da cui uno ti ha dato uno sconto insomma ad oggi chi si mette a fare queste cose magari canali youtube magari una passione come la tua la chitarra eccetera che consiglio puoi dare tu oltre cioè al pensare di magari fare un corso e metterlo là perché spesso adesso questa cosa dei corsi sta andando ovunque e quindi le persone dicono aspetta faccio un corso e svolto la vita poi ti rendi conto che appena fai il corso lo metti online c'è il deserto totale il buio non c'è niente dietro eccetera quindi a chi ha una passione come la tua la porta avanti vuole monetizzarla cosa puoi consigliare tu allora intanto ho fatto un domandone intanto di non aspettarsi cioè dei veri e propri guadagni diretti da queste piattaforme o cose del genere perché alcuni pensano cioè pensano veramente che io guadagni dalla pubblicità di youtube cioè infatti io dico sempre quando uno mi dice che sono uno youtuber allora ci sta perché la maggior parte delle persone mi scopre da lì cioè da youtube però su youtube seriamente io ci sono da 3-4 anni e il business è da 10 anni che c'ero e prima quando avevo solo il blog nessuno mi diceva che ero un blogger è vero questa cosa è pazzesco mi stai facendo riflettere è vero cioè tutti hanno il blog e nessuno è un blogger no youtube è youtuber è youtuber per me youtuber è chi guadagna direttamente da quello che fa su youtube cioè sponsorizzazione di aziende quindi faccio il video per l'azienda guadagno dalla pubblicità di youtube eccetera ma dato che per me il guadagno derivante da youtube è più o meno un 3% del fatturato non direi di essere uno youtuber diciamo cioè youtube per me è una fonte di traffico come lo sono i vari siti che ho insomma quindi appunto quello che dico io è di andare certamente sulle varie piattaforme fare tutto quello che dovete fare senza aspettarsi niente cioè farlo un po' come come se doveste farlo gratis cioè nel senso al posto di dire faccio questa cosa perché voglio guadagnare questo quando uno parte da zero secondo me dovrebbe dire investo non so un'ora al giorno ogni volta finisco di lavorare o prima di iniziare dedico quell'ora a costruirmi una visibilità online queste cose qua ma senza pensare a un ritorno cioè io do il meglio di me in quell'ora per non so un anno due anni tre anni dopo due anni che ogni ogni giorno dedico un'ora al giorno a creare contenuti online e non un video al giorno cioè dedico un'ora al giorno a creare contenuti che è diverso certo e secondo me dopo due anni puoi cominciare a pensare a fare qualcosa insomma nella strategia che hai utilizzato tu io vengo dalla SEO quindi figurati se avessi un progetto del genere io farei di tutto canale sito bla 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 chi più ne ha più ne metta fare più siti eccetera figurati è normale ma nella nella tua strategia ad oggi tu leveresti qualche cosa o addirittura aggiungeresti qualche cosa che nascono sempre di nuovi canali Twitch per i gamers TikTok c'è di tutto adesso cioè allora la mia non so qual è la verità perché spero di non sbagliarmi però però potrei sbagliarmi però almeno finché non ho qualcuno che si dedica cioè un dipendente tra virgolette un collaboratore che si dedica a farmi fruttare un certo canale specifico se devo essere io che ci dedico le mie energie secondo me è meglio meglio scegliere quelli in cui ti trovi bene e puntare tutto su quelli cioè io per esempio non so Twitch l'ho visto adesso che potrebbe essere interessante per esempio tra l'altro a me farebbe anche piacere perché io per esempio faccio un podcast anche molto lungo cioè faccio puntate da un'ora e mezza due ore ok quindi è una cosa che starebbe benissimo su Twitch io potrei tranquillamente farlo su Twitch e poi caricare la il video registrato quindi lo faccio in diretta su Twitch e carico il video registrato su YouTube ah certo due piccioni con una fava questa cosa potrei farla tranquillamente ma comunque è una cosa che mi porterebbe via un'energia mentale faresti faresti anche il podcast il podcast sì sì in realtà è nato come podcast cioè nel senso fai la live con Twitch registri tutte cose quindi ti fai il podcast dall'audio e poi magari fai anche YouTube però comunque è una cosa che mi porterebbe via comunque energia mentale quindi alla fine ho scelto di non mettermi neanche a farlo e dedicarmi bene a farlo come lo sto facendo adesso cioè sulle piattaforme di podcast quindi Spotify iTunes Spreaker eccetera e YouTube c'è il video fatto bene e per esempio anche la pagina Facebook adesso secondo me è veramente inutile a parte per il fatto che non puoi avere un account pubblicitario se senti posso mettere il loop quello che hai detto adesso lo metto il loop continuo cioè è pazzesco anche se effettivamente cioè alcune persone riescono a lavorarsi ancora bene con la pagina però nel mio caso è inutile è più da sponsorizzata eccetera sì la tengo perché comunque senza non potrei fare la pusta esatto poi cos'altro Instagram per esempio sono cioè non sono mai per esempio le stories non sono mai cioè io non le capisco non riesco a usarle bene non mi viene voglia di farle e quindi cioè le stories per esempio per me sono degli spottoni cioè è uscito il contenuto si metto la copertina del contenuto su ipad e loro vanno a vederlo però so benissimo che così è cioè una non sto sfruttando Instagram cioè è un amplificatore giusto perché buttare la copertina di YouTube su Instagram e mettere il link non mi costa niente però andrebbe fatto in maniera diversa ovviamente per sfruttarne le potenze tu hai parlato di segmentazione tu fai anche la differenza fra i lead che prendi magari che vengono da YouTube o che vengono dal blog o che vengono da altri canali da una sconsolizzata però tanto sugli interessi e le proprietà del della persona tipo se uno scarica ovviamente la guida sugli effetti per la chitarra ovviamente è nella lista di quelli che sono più interessati agli effetti al suono e quelle cose là perché per esempio ho il corso sugli effetti il corso sull'home recording quindi registrare da casa e quindi magari uno che ha scaricato la guida agli effetti può essere più in target per quello poi vedi la cosa figa lo fai emergere tu mentre parli rispetto ai corsi che hai fatto è che tu hai fatto uno studio alla base dei corsi da mettere online rispetto magari al target e a quello che desidera il target mentre in molti dicono aspetta faccio un corso ok questo è do magari questo è fa eccetera eccetera perché si limitano a quello invece quello che dici tu è proprio strutturiamo tutto in base all'utente sì io sono cioè non ho fatto un vero e proprio studio nel senso che io guardo più i feedback che ricevo dagli utenti le problematiche che hanno eccetera e quindi dai problemi cerco di creare una soluzione non sempre ha funzionato però come ben sai anche tu l'ultima parola ce l'ha sempre al mercato uno può fare tutti gli studi che vuole dopodiché va online e magari non vende niente assolutamente sì nel futuro cosa hai? progetti? abbandono tutto e vado a Bangkok un nuovo libro perché ho anche pubblicato un libro cioè un libro testo cioè un corso come si chiama? il libro La mente del chitarrista ok che sì è più un libro di consigli sì possiamo dire di gestione del tempo crescita personale per il chitarrista e adesso prossimamente vorrei ho fatto una serie di video che si chiama SOS chitarra che risponde un po' ai dubbi amletici del chitarrista e da tutte le risposte che servono a uno che insomma sta iniziando e quelli mi piacerebbe evolverli per creare un nuovo libro insomma devo ancora mettermici seriamente per ora ho solo scritto il testo di alcuni video però vediamo insomma come fare però continuerai tu con corsi eccetera e rimani su questo sì 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 adesso e chi mi sbume più no vabbè diciamo che comunque per rendere sostenibile tutto quanto comunque mi serve mi cioè ho bisogno comunque di lanciare nuovi corsi adesso ne ho penso più di una decina forse una decina però di idee di nuovi corsi ce ne ho tantissime il problema è appunto svilupparle fortunatamente non sono l'unico che li fa adesso mi son creato anche una postazione dove riesco a fare video più velocemente quindi bene quindi riescirò a fare anche io più corsi perché ultimamente sto lanciando praticamente solo corsi di altri ma che poi va bene perché io non sono esperto sempre per quanto riguarda la chitarra o per quanto riguarda altro ok chitarra cioè tutto applicato alla chitarra tipo non so l'home recording è fatto da un tecnico del suono certo e poi ho fatto l'ultimo corso che ho lanciato è di teoria e armonia musicale che ho fatto da un maestro di chitarra maestro nel senso proprio che insegna in una scuola in un'accademia e poi ho fatto cioè vari corsi di tecnica di un maestro che è molto più tecnico cioè proprio più tecnica proprio più virtuoso diciamo e quindi ci sono tutte queste sfaccettature poi c'è quello il corso per chi suona con le dita che invece sono più impostazione moderna e c'è il fingerstyle quindi suonare con le dita la chitarra acustica e quindi c'è quello che è forte su quello e quindi fa il corso su quello e quindi ci sono tante sfaccettature fortunatamente il mondo della chitarra è così è talmente enorme che potrei andare avanti a fare incredibile a fare cose per anni sì certo io ti voglio fare l'ultima domanda e poi non ti stresso più promesso per la vendita dei corsi tu utilizzi delle piattaforme teachable o cose del genere oppure vai di di e-commerce allora questa è una cosa che sto valutando di cambiare adesso in realtà adesso uso Optima Express per per tutto cioè nel senso per tutte le pagine anche i corsi proprio sono strutturati con delle cose di Optima Express che però è pesantissimo a livello di codice infatti ho un sacco di problemi per quella cosa là perché quando si sovraccarica di traffico in quarantena sono stato sommerso da persone che volevano imparare a suonare la chitarra e si bloccava tutto ogni due secondi e molto secondo me è dovuto a Optima Express perché cioè effettivamente non era un traffico esagerato vabbè comunque quello sto cercando di pensare di cambiarlo anche perché ovviamente una piattaforma tipo Teachable è molto più adatta a un corso diciamo io tutte le cose che faccio su Optima Express sono fatte manualmente cioè il pulsante vai avanti di lezione lo faccio io invece su Teachable è tutto impostato per essere un corso e basta che carichi i contenuti quindi sto cercando di capire se usare una piattaforma tipo quella che quindi ho sto le cose oppure a fare la mia piattaforma proprietaria insomma bisogna bisogna vedere insomma ok ok carissimo se qualcuno ti volesse contattare sì quali sono di base il quartier generale è chitarrafacile.com passate dall'ala cioè basta scrivere chitarrafacile su google e siamo a posto e per email david chiuscola chitarrafacile.com facilissimo ok david io ti ringrazio veramente tantissimo per essere passato da queste parti per averci dato il tuo punto di vista è tutto questo grandissimo valore rispetto a quello che fai eccetera perché è proprio da ispirazione ci rivediamo alla prossima noi ottimo ok grazie ancora grazie mille a te ciao 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 caro ciao ciao